In questo momento la cosa più importante è quello di riuscire a gestire la domanda con margine, i prezzi stanno andando giù, stiamo parlando sempre di più di conti economici in perdita e la crisi sta peggiorata, quindi in questo momento le aziende si devono concentrare soprattutto da un lato sviluppare la domanda e dall'altro ridurre i costi per migliorare in margine. Senza aziende che nel medio e lungo termine possano garantire un buon utile e quindi una buona remunerazione del capitale difficilmente si potrà continuare, quindi penso che questi siano i due argomenti su cui concentrarsi, quindi crescita ed efficienza per avere utile e dare continuità all'azienda.